che bel cappellino che ha i mauri questa è scena 1 fegatelli loro che camminano distruggimelo ok qui o lì? qui dal lato freddo ti hai deciso? si ci stava troppo male che varie modo che cagliano bene ci stava troppo male così semplici da partecipare al programma di spegnulazione adesso schizzo di vostro tranquilla schizzo schizzo partolo schizzo guilli lei non sa cosa deve fare non sa cosa deve fare si stanno prendendo tutto qua si ma vedi perché hai domotica che era tua tu le parli e la casa fa cose no no non è quello questo qua vai avanti finita la sperimentazione del nuovo sistema di digitalizzazione della conoscenza i gost si è ormai diffuso a livello globale sono ormai le persone che sono a dire ma come cazzo fanno io come cazzo fanno io come cazzo fanno io cazzo no aspetta aspetta adesso cazzo fanno solo scureggio sai tipo il sabotatore uguale no guarda i miei secondi fa ho pensato beh oggi non ho ancora riso perchè il cavallazione non chiedere sono stati buoni no aspetta quattro forse 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 cina a forse 5 luca muore no aspetta sono tre quattro forse quattro sicuro ma non sappiamo quanto è finita nel frattempo lo zoom sta distando tutte le nostre strontate allora direi mi sento imballati stop toccarti toccarti basta 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 ecco sapevo io stop scusate scatto non devi lanciare un tirato facciamo delle prove e si ti dice basta che è stata lei dopo il passo? buono buono la distanza mi sembrava ottima praticamente lei è globa si 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 è un globo ma perchè? è un globo è quello che non ho invece stop da capo dai si è il meno reato non è tutto non è tutto indietro non è tutto non è tutto non è tutto non è tutto basta 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 ciao ciao oh cazzo scusate c'è il suo lancio ma ora dammi ci fuori a dire se ti fai male dai possiamo farlo rientrare non c'è niente non c'è niente mi diverto oh è già partito il video sei tu un regista no hai capito sei tu un regista allora YN è finito e noi stappiamo salute non ci fuori non ci fuori